E' stato presentato oggi Ring, l'evento nazionale che riguarda il marketing e la comunicazione in generale. La Lecce ospiterà infatti la manifestazione organizzata da Oltrelinea. Sentiamo Mariella Tamborino. Marketing e comunicazione, questi gli elementi per uno sviluppo reale del territorio. Ecco perché il gruppo Oltrelinea organizza per il 7 e per l'8 giugno prossimi un maxiconvegno con i più autorevoli operatori del settore. Due giornate di incontri, confronti, workshop, tavole rotonde e approfondimenti nella suggestiva cornice del Chiostro di San Domenico. Relatori e ospiti di rilievo nazionale ed internazionale approderanno a Lecce per un confronto con il mondo istituzionale ed imprenditoriale. Nelle due giornate saranno affrontati argomenti di ogni tipo, dall'energia al turismo, dall'ambiente alle tematiche istituzionali, tanto per citarne alcuni. Ci sarà spazio anche per la degustazione di prodotti tipici ma soprattutto per la promozione in generale con l'allestimento di oltre 40 stand di aziende, agenzie e denti di formazione operative negli ambiti del marketing, della comunicazione, dell'editoria, della creazione e gestione di eventi, del management e delle relazioni pubbliche. Perché la comunicazione, ha commentato il presidente del gruppo Oltrelinea, Stefano Petrucci, è il vero strumento di crescita di un territorio. Siamo nell'era della comunicazione non solo perché deve essere sostenuto lo sviluppo attraverso la diffusione delle informazioni, ma nell'era della comunicazione perché conta molto il contenuto, cioè la capacità di creare notizie e di trasmettere. La notizia più importante che può fare un territorio è creare la propria identità. L'evento, il primo del genere, organizzato nel sud Italia, è patrocinato dalla Camera di Commercio di Lecce, dall'Università del Salento, da Confindustria Puglia e da Confindustria Lecce. Sarà un momento di confronto e di dibattito dal quale tutti quanti, imprese, istituzioni, territorio nel suo complesso, trarremo degli spunti di riflessione interessanti. La comunicazione e il marketing sono due leve fondamentali per la crescita del sistema economico e produttivo, sono due leve fondamentali che indicano che c'è in atto un processo di trasformazione fondamentale importantissimo sul nostro territorio. Grazie.